Eccoci qui, seconda parte del video, dunque collegamento in diretta con le visite mediche di Robin Gosens. Mettiamo una spunta verde in attesa del comunicato ufficiale e poi nella giornata di oggi si dovrebbe andare a chiudere anche la questione Caicedo. Seconda parte del video dedicata ai vostri messaggi alla rassegna stampa come da programma solito. E allora andiamo a leggere i vostri messaggi all'edizione straordinaria di ieri sera che vi ha dato la notizia della definizione della trattativa quando sono stati ultimati tutti i dettagli per quanto riguarda l'arrivo di Gosens in nero azzurro. Operazione molto importante anche come cifre diciamo relativamente basse per il valore di un giocatore top in Italia come in tutto il mondo. Andiamo a leggere adesso un po' di vostri messaggi. Molta soddisfazione direi da parte di tutti anche se c'è qualcuno, i soliti intertristi, che si lamenta del fatto che Vlaovic sia andato alla Juve con un esborso veramente pesantissimo per il bilancio, un'operazione infattibile per quanto riguarda l'Inter che ci sarebbe stata solo se il giocatore in futuro sarebbe andato in scadenza di contratto come vi avevamo detto. Francesco De Pace, ben 26 like, edizioni straordinarie che ci piacciono, grande Marco e grazie per tutto quello che fai con costanza e professionalità senza chiedere niente in cambio, l'Inter c'è, niente panico, facciamo lavorare la nostra top dirigenza tra l'altro sono in arrivo novità pesanti, qui ci sarà uno scontro totale tra i cialtroni vari che popolano purtroppo questo mondo di YouTube e voi mi raccomando diffidate sempre da chi non mette la faccia da cialtroneston e tutti i suoi sodali, da chi soprattutto vi viene a chiedere soldi fate attenzione, cambiate canale, se volete fare delle piccole donazioni ci mancherebbe altro per supportare la crescita ma anche aiutare comunque tutte le persone che contribuiscono a questi prodotti ma si finisce lì altri esborsi se vi vengono chiesti diffidate e andate a gambe levate disiscrivetevi soprattutto se qualcuno vi propone quote di canali diffidate e andate oltre Fede FCM 2019-2020 10 gol 8 assist 2020-2021 11 gol 6 assist nelle ultime 5 stagioni 25 gol 17 assist non male questo attaccante ah no, è Robin Gosens insieme a Denzel farete i buchi su quelle fasce numeri, abbiamo già stoniato pesantissimi Gabri Melody Notes Gosens è una bomba felicissimo tanta spinta, tiro potente, fisicità assist, gol insomma un giocatore davvero forte welcome Gosens un Robin Hood solo applausi per il nostro Marcone che ci fa l'edizione speciale Liviana Riccardo Listorti acquisto da 10 lode Don Beppe va sempre dritto per la sua strada se vuole travolge tutti molto felice di questa mossa di mercato io per l'estate andrei su Bremer e Frattesi su Scamacca ho dei dubbi preferirei Haller dell'Ajax e ci può stare un giocatore in crescita forte però direi che la strada per Scamacca è tracciata in più c'è quell'italianità che segue e cerca Marotta con l'ok di Zhang per avere una squadra ancora sempre più motivata Luca Clerici sempre sul pezzo grandissimo Marco chiedere scusa a Zhang Marotta ausilio e bacini insomma altro colpo della società ai cialtroni e a tutti gli intertristi avanti tutta Mario Parente come sempre grazie per la tua professionalità un gran bel colpo grande Zhang Marotta ausilio tutto lo staff Martin Fifteen Gosens gran colpo a un prezzo più che ragionevole tra cui si ingaggio soprattutto per il valore comprovato del giocatore Caicedo risorsa ideale come quarta quinta punta un nuovo bomber penseremo l'anno prossimo Pasquale Scarpitta speriamo sia bene fisicamente se sarà così è letteralmente un colpo eccezionale Americo Battaglini Caicedo come quinta punta un ottimo innesto Gosens grande acquisto l'unica cosa che spaventa sono le condizioni fisiche dei due soprattutto del tedesco ma ti ho già spiegato Americo che l'Inter ci ha visto prima di chiudere la trattativa si è sincerata della situazione poi oggi verrà tutto approfondito alle visite americhe queste edizioni straordinarie mi piacciono tantissimo Roberto Scaricacciottoli grande Marco sempre sul pezzo Mario Manzini ottimo acquisto soddisfatto molto Cozzolini Valerio quanto è bello leggere l'edizione straordinaria per un grandissimo giocatore Gianmarco V colpo clamoroso ha quelle cifre poi ottimo che passi in sordina come piace a noi interisti a Don Beppe 22 più bonus per Gosens contro i 27 per Dalbert ero totalmente scettico ma questo è un colpo allucinante per qualità prezzo comunque Perisic spero rinnovi a condizioni ragionevoli Maria Gemelli mi sa che è uno dei primi messaggi oggi dobbiamo dire grazie a questi uomini che parlano poco e fanno fatti concreti poi gli altri oggi sono dietro in campionato se sono migliori di noi dietro c'è posto per tutti buona cena Lorenzo Rispoli Milan City oltre a Batman Andanovic avrà Robin Gosens i Barza Brothers colpiscono ancora sempre sul pezzo grazie Lollo grandissimo Marco come sempre Nick Gump estrema gratitudine per Barzaghi riconoscenza sempre Aurora Gosens è un top player come la nostra dirigenza Black Rose aspettavo trepidante la tua conferma che per me ha già valore ufficiale Gosens era uno dei regali richiesti nella mia letterina di Natale per Babbo Marotta di qualche tempo fa insieme a Scamacca e Frattesi fuori uno adesso possiamo concentrarci sugli altri due germanico queste le uniche edizioni straordinarie che voglio sentire vedere grazie sempre grande Barza Matteo Novellese notizia boom colpo fantastico prezzo giusto e sono fiducioso per Caicedo mamma mia l'acquisto che sognavo double Ic double G anzi grazie Marcone per tutto quello che fai per noi Franco Iseppi per la passione che ci metti vero professionista grande adesso però basta con queste critiche alla dirigenza del presidente Zhang visto che è appena possibile è tornato e ha dato il meglio di sé riguardo a quello che dicevi nel tuo video precedente Fabri Motta ci sono individui che ogni volta che succede un trasferimento di un giocatore dicono ve l'avevamo detto oppure tipo io l'avevo detto in tempi non sospetti oppure sono stato io il primo a dirlo tutte cose campate in aree si chiama euforia delirante praticamente succede quando sei convinto delle cialtronate che dici a tal punto che ci credi anche tu e vabbè cosa dobbiamo dire anche piccoli giovani apprendisti crescono anche su altre piattaforme che pensano di aver dato loro la notizia quando uno la spara lì a casaccio senza nessun tipo di riscontro la differenza tra il tuo canale e quello dei cialtroni sotto gli occhi di tutti io ormai sempre solo il Barza il resto è Cirque du Youtube grazie a Fabri per il suo messaggio David Blake mi piacerebbe un tuo pensiero in merito ho sentito Sport Italia che si ha interesse ad andare a giugno al Barcellona dato che hanno avuto problemi ad iscrivere tra le loro file Torres David mi stupisce che mi chiedi queste cose vuol dire che non ci segui con attenzione vi ho detto da tempo che si andrà a giocare come ha confessato in Spagna e al Barcellona grande Marco ottima notizia per noi Flavio Fiorini per me che vivo in Spagna sono grande tifoso dell'Inter avere informazioni serie sulla squadra calcisticamente parlando il top mi manca San Siro ma tu me lo fai sempre un po' rivivere e grazie questi sono i messaggi quelli belli quelli che quelli che ci piacciono ciao avvistato Don Pietro Savastano Gosens è il terzino che dal 2019 fino ad adesso è il miglior golador dei 5 campionati europei il nostro Beppe è un number one direi che ci siamo Francesco Ferrox gli ultimi messaggi degli abbonati grande colpo Gosens non me lo aspettavo il meglio che si potesse acquistare attacca difende segna è un'operazione di mercato al bacio poi grandissimi barzaghi interisti ma prima giornalisti seri Giovanni Zaccaria sei mitico sono orgoglioso di far parte di questa community e ti ringraziamo per il tuo supporto Carmelo Perrucci speriamo che fisicamente sia a posto un acquisto importante per l'intero Francesco nickname che spettacolo Marco e che ci sia un'altra edizione anche oggi per l'attacco l'aspettiamo tutti potrebbe avere più stimoli Perisic Carmelo Perrucci ci chiede lo speriamo e speriamo soprattutto che non gliene vengano a mancare visto che come dicevamo anche nel video di ieri ha sempre un po' avuto questo rendimento altalenante Ivan Perisic adesso direi comunque vediamo se c'è qualche altro abbonato che ci ha scritto Michele Madrid colpo da maestro del dottor Marotta poi ricordiamo a tutti gli abbonati che hanno poi la possibilità di far parte del gruppo Telegram dedicato ai sub con la possibilità di interagire anche con me durante tutto il corso della giornata avere notizie approfondimenti e sempre qualche cosina in più rispetto al solito che non viene mai a mancare ultima parte di questa lunga mattinata insieme andiamo ad aprire i giornali e direi che finalmente viene dato anche il giusto peso al colpo dell'Inter che ieri era stato un po' snobbato con tutte le prime pagine dedicate a Vlaovic invece oggi diciamo che mettiamo le cose al loro posto anche perché sì Vlaovic sta facendo molto bene però è tutto da vedere verificare in una squadra top poi ancora molto giovane quanti ci sono che poi si sono persi per strada certo non gli auguriamo una cosa del genere Vlaovic spacca tutto risposta nera azzurra la Juve stra Inter è la copertina della gazzetta con un bel Gosens dominante poi c'è il City Sudibala sfida Marotta a colpi di milione oggi l'annuncio di Gosens a fine febbraio sarà pronta arriva pure Caicedo in estate Scamacca e Frattesi obiettivo aprire un ciclo Gosens oggi l'annuncio e la polizza Scudetto e poi Scamacca e Frattesi per confermarsi al top il tedesco è a Milano da ieri prime visite post infortunio a fine febbraio sarà pronto a fare da 22 milioni di fisso e 5 di bonus vedete c'è un po' di discordanza sulle cifre l'Inter è già nel futuro leggiamo Davide Stoppini sulla gazzetta verso l'infinito e oltre la meravigliosa frase di Bats Lightyear nel film Toy Story pare sia stata pronunciata in questi giorni pure nei corridoi di via della liberazione si scherza ma non troppo perché l'Inter non è certo infinita ma sta guardando oltre oltre questa stagione questo gruppo di lavoro questi risultati che pure sono eccellenti Gosens dopo un'ana è un manifesto di programmazione e prima di Scamacca e di Frattesi gli altri due colpi che non possono essere definiti come conclusi ma certamente ben indirizzati e si sottolinea si sottolinea la il colpo nerazzurro ieri per Gosens è stata la giornata dei dettagli di alcuni controlli medici preliminari come vi avevo anticipato oggi visite ufficiali firme e annuncio una stretta di mano tra zanghe per Cassi vale un patto di ferro ecco perché ieri sono state fatte alcune correzioni in corsa l'affare è già apparecchiato martedì senza che nulla potesse mettere in discussione l'esito l'impianto dell'operazione è il seguente Gosens arriva dall'Atalanta in prestito gratuito per sei mesi il riscatto avverrà nel corso della prossima stagione entro il 2022 e il 2023 non dopo 18 mesi come inizialmente previsto l'Inter verserà a per Cassi 22 milioni di euro di cifra fissa più 3 milioni di bonus semplici da centrare e altri due legati invece a obiettivi di squadra la cifra potenziale dell'affare dunque di 27 milioni di euro certamente meno dei 35 che chiedeva inizialmente l'Atalanta Gosens è fermo da settembre la cosa non può non pesare in una trattativa è per questo che il tedesco in gran segreto è stato già sottoposto da alcuni controlli legati al suo infortunio muscolare i tempi di recupero sono confermati sarà pronto per fine febbraio stamattina in programma visite di routine nel pomeriggio l'annuncio e la firma fino a giugno 2026 un contratto da 3 milioni a stagione complessivi di bonus 2 e mezzo più bonus salvo cambi di programma il giocatore non dovrebbe raggiungere in giornata a piano gentile non c'è fretta dal senso non essendo neppure presente causa covid il tecnico Inzaghi con il quale comunque si è già sentito nelle ultime ore Gosens è il secondo colpo futuribile dopo Onana e potrebbe non essere l'unico le attenzioni ora sono puntate in Emilia Scamacca e Frattesi l'attaccante è il prescelto per il reparto della prossima stagione con l'idea di costruire in casa dal dopo Geco e per questo è stato rifiutato anche Orighi che è stato proposto poi sarà tempo di rinnovi si parla anche di Caicedo ultimi passi ad appiano entro 48 ore vertice in serata tra la gente dell'attaccante il Genoa manca l'ultimo ok per liberarlo come ci ha detto il collega Balestracci ci potrebbe poi essere un appuntamento decisivo anche in Lega tra Inter e Genoa rinnovo di Perisic il bivio a febbraio ma il club adesso è più tranquillo Marotta e Ausilio convocheranno l'entourage con la nuova proposta se salta l'accordo l'idea cambiaso come vi ho detto ma sembra tutto che vada in questa direzione il futuro è adesso l'arrivo di Gosens porta l'Inter a fare un bel salto in avanti sulla programmazione della squadra che verrà un colpo da 90 per la fascia che appena rientrerà dall'infortunio sarà già in grado di giocarsi il posto da titolare con Perisic ma è proprio sul croato che si addensano le nuvole all'orizzonte a un contratto in scadenza giugno Inzaghi ha già votato fosse per lui Perisic continuerebbe ad avere il suo armadietto da piano il club sta lavorando per accontentare il suo allenatore tanto da aver avviato nei mesi scorsi i primi contatti con l'entourage del giocatore trovando però una porta semi chiusa sul rinnovo Perisic guadagna 5 netti a stagione vorrebbe migliorare il suo compenso mentre l'Inter ha avviato il programma di riduzione del costo del lavoro come da richiesta dalla famiglia Zhang e quindi molto difficile Di Bala Conteso scatto City per il 10 Pep Guardiola lo apprezza e che occasione a parametro 0 se rompe con la Juve gli inglesi possono offrire un ingaggio in doppia cifra più di Marotta mentre Kuluzeski in bilico si arriva una chiamata a parte anche lui lo stesso per Morata grandi uscita adesso dopo l'arrivo di Vlaovic in casa bianconera con l'Inter che rimane alla finestra a vedere quello che accadrà andiamo adesso alla prima pagina del Corriere dello Sport arriva Vlaovic porta la Champions grandissimo colpo con Morata forma una coppia super nuova Juve è la corsa per l'Europa parla Don Fabio e poi Goshen Kaissedo in Zaghi risponde andiamo all'interno si parla di Vlaovic prima di tutto poi di Balotelli il suo ritorno in azzurro e alla fine pagina 12 i colpi di Simone l'Inter è già nel futuro dietro all'ingaggio di Gosens c'è una strategia molto chiara la capolista non ha voluto solo completare la batteria degli esterni ma proiettarsi verso giugno giocando d'anticipo e cautelandosi in caso di mancato rinnovo di Perisic dopo un'ana a zero tra i pali bloccato Bremer presto il rinnovo di Brozovic fino a 2026 la prossima mossa gol italiani uno tra Scammacca e Raspadori a centrocampo serve un alter ego di Barella frattesi è il primo della lista tanta alternativa in ogni ruolo Caicedo sarà una soluzione ponte Gosens oggi le visite Caicedo manca poco prestito fino a giugno riscatto a 22 milioni e 5 di bonus per l'attaccante serve l'intesa sullo stipendio per 5 mesi squadra al lavoro grandi manovre anche per gli sponsor leggiamo è stato spiegato sono già cominciate le trattative per rinnovare la partnership con Nike in scadenza 2024 l'obiettivo è quello di raddoppiare la cifra base dei 12 milioni prevista nel contratto in corso e sarebbe penso il minimo visto il nuovo appeal dell'Inter per i risultati che si sta si stanno avendo chiudiamo questa lunga mattinata doppio video perché c'è veramente tanta carne al fuoco e vi abbiamo dato anche questa questo collegamento in diretta con le visite mediche che sono ultimate proprio adesso da parte del giocatore Vlaovic nuovo CR7 la copertina di tutto sport e poi Inter non solo di bala scamacca via libera se lo dice anche tutto sport vuol dire che ha avuto conferme importanti ulteriori veramente top e anche Nandez adesso potrebbe finire alla Juventus se ci sarà un'uscita a centrocampo Nandez aspetta la mossa Juve ma Bentancur deve andare via non c'è intesa tra il bianconero e l'Aston Villa pagina dedicata all'Inter però eccola qua risposta Inter alla Juve non c'è solo di bala Marotta anticipa e va su scamacca gli eccellenti rapporti Gossassuolo dovrebbero favorire l'operazione l'Inter intende muoversi già ora per evitare aste pericolose a fine stagione Pinamonte e Pirola tra le possibili contropartite e tra gli emiliani c'è anche Frattesi che resta un obiettivo dei nerazzurri per il centrocampo poi Gossess in chiusura Caicedo ai dettagli e si lavora Bremer l'Equadoriano deve ridursi l'ingaggio il difensore del Torre l'obiettivo per l'estate se parte De Vrij e poi una foto una bella immagine di Eriksen che si sta allenando con l'Ajax bellissimo video intanto di un giocatore che si sta veramente ritrovando prima di firmare col Brentford ma vedendo anche come lo lo guardano allenatori dirigenti dell'Ajax attenzione che magari se lo riportano a casa vediamo cosa succede sul fronte Eriksen niente partitelle solo allenamenti primo obiettivo tirare a lucido Geko la ripresa della preparazione da piano gentile con tutte le precauzioni covid quindi niente spogliatoi in comune niente pranzi in comune ognuno nella sua camera aspettando i risultati dei tamponi che saranno a disposizione nella mattinata di oggi questa dunque la situazione pronti a interrompere la giornata ancora con un'altra edizione straordinaria se ci saranno novità mi raccomando sempre sintonizzati appuntamento poi in live questa sera intorno alle 11 vi aspetto gruppo telegram per non perdervi nessun tipo di appuntamento ancora buon go sense day a tutti